delitto panzieri prime ammissioni di alessandrini lunedì l'autopsia al san salvatore prime operazioni di chirurgia pediatrica in sinergia col salesi primaria pd domenica si vota per segreterie nazionali e regionali stoppa superbonus edilizia in grave difficoltà i maneschi infiammano la vitrifrico arena di pesaro buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale del canale 80 telegiornale di venerdì 24 febbraio che apriamo occupandoci nuovamente degli ultimi sviluppi sull'omicidio di pierpaolo panzieri è attesa infatti per lunedì l'autopsia sul corpo del 27enne pesarese ucciso nella notte fra lunedì e martedì intanto dalla romania arrivano le prime ammissioni del presunto omicida michael alessandrini sarà l'autopsia di lunedì fissata per le 15 30 a chiarire la dinamica relativa alla morte del 27enne pesarese pierpaolo panzieri esame autoptico che però di certo non darà spiegazioni sul movente di un delitto atroce ancora pieno di lati oscuri potrà chiarirlo solo michael alessandrini attualmente in custodia cautelare in romania in manette a timi gioara dopo il mandato d'arresto europeo per l'accusa di omicidio volontario aggravato da futili motivi e crudeltà alessandrini avrebbe ammesso la sua colpevolezza nell'uccisione dell'amico pierpaolo ai magistrati romeni e la procura pesarese sta recependo le sue prime dichiarazioni in attesa delle stradizioni in italia coi tempi d'attesa fra i 10 e i 30 giorni intanto sono emerse le intenzioni del suo viaggio da via gavelli di pesaro per duemila chilometri percorsi fra italia slovenia croazia ungheria e romania dove stato individuato e fermato dalla polizia michael è stato trovato con un coltello da appurarsi proprio l'arma del delitto e anche in possesso del cellulare di pierpaolo alessandrini voleva andare in ucraina all'hotel san marco di proprietà della famiglia e dove michael viveva e lavorava aveva infatti avuto dei contatti con dei profughi ucraini ospitati dall'albergo l'obiettivo vagamente pianificato era quello di raggiungere il paese in guerra dove sarebbe diventato del tutto irreperibile un progetto di fuga di un soggetto descritto come instabile imprevedibile fin dall'infanzia come confermato dagli stessi genitori distrutti dal dolore nell'intervista rilasciata al programma rai ore 14 non volevo andare in cura voi avete provato abbiamo provato gliel'abbiamo chiesto anche il suore un medico gliel'ha detto fatti curare tutto però niente da piccolo avevamo detto che era bipolare quando siamo andati in vietnam ter te lo ricordi poi dopo non avete prestato più attenzione anche a questi no perché il problema risolto non l'aveva più manifestato il grosso il brutto è venuto durante il periodo del lockdown durante il covid cosa è successo cosa non l'ha presa bene insomma si era inchiuso ancora più in se stesso insomma nel suo nel suo mondo presumo non vi aveva dato modo di pensare che era un violento che non ha mai aggredito nessuno niente io ho provato a fare di tutto mi sono consumata ragazzi ve lo assicuro guardate io mi sono consumata il padre si è consumato alla madre di pia cosa dico mi dispiace tanto mi dispiace tanto non abbiamo colpa siamo vittime anche noi siamo morte anche noi primi interventi di chirurgia pediatrica all'ospedale san salvatore di pesaro dopo l'accordo siglato fra gli specialisti del salesi di ancona e la neonata azienda sanitaria territoriale di pesaro urbino in sala operatoria sono state effettuate le prime sei sedute su pazienti pediatrici l'obiettivo di questa sinergia il trattamento di patologie chirurgiche in pazienti di età compresa fra 0 e 16 anni una sinergia che consente di trattare a pesaro patologie come ernie inguinali ombelicali e epigastriche appunto sui minori e sui bambini e cambiamo argomento e arriviamo all'appuntamento di ieri sera la vitre frigo arena di pesaro dove sono arrivati i maneschi in un concerto fra i più attesi degli ultimi anni nell'astronave pesarese andiamo a vedere alcune immagini del concerto e anche immagini di quello che ha preceduto il concerto con le 10 mila persone che si sono riversate sulla vitre frigo arena dopo il tour mondiale nord america la band italiana più esplosiva del momento ha aperto il suo tour europeo alla vitre frigo arena di pesaro i maneschi ieri sera hanno regalato alla città il privilegio di essere la prima in assoluto ad ascoltare la scaletta dei loro brani proprio in quella pesaro che fu trampolino di lancio della loro carriera e dove superarono a pieni voti le audizioni di x factor quasi 10.000 alle anime in fiamme arrivate da tutta italia non solo per vivere due ore di adrenalina pura e godersi finalmente questo concerto tanto atteso dopo essere stato tanto rimandato il tour risale infatti a gennaio dello scorso anno posticipato più volte causa covid è incrementato di nuove date per i numerosi sold out maneschi che uniscono generazioni diverse e le mettono una a fianco all'altro sotto il palco a pesaro si è visto il ragazzino di 10 anni e la signora di 60 chi è euforico per il suo primo concerto e chi torna a sentirsi giovane almeno per due ore siamo qua in pole position con i primi arrivati al concerto che ora siete arrivate verso le sette di stamattina da dove venite ritonto bari quando siete arrivati ieri mattina abbiamo viaggiato di notte sei ore di di viaggio abbiamo visitato tutta pesaro noi veniamo da riccione e si è il nostro primo concerto insieme e ci aspettiamo un bel divertimento anche perché allogicare da quanta gente c'è dai dovrebbe essere un bello spettacolo io mi aspetto qualcosa di strepitoso strepitoso non lo so nella mia testa sicuramente sarà strepitoso quindi siete pronti a scatenarvi certo certo per questo no sono in fila da due orette circa e sappiamo che sei venuto con un amico sì mi ha chiesto tanto di portarlo e l'ho portato damiano presentatelo a lui damiano dentro anche dei piccoli damianini che sono degli orsetti gommosi è il mio secondo concerto dei maneskin il primo l'ho fatto nel 2018 che l'ho dato a zero dopo che sono usciti da x factor e mi aspetto un casino io 45 anni fa stavo smettendo di suonare la batteria e però andando a un concerto di maneskin e dopo volendo suonare i pezzi che mi piacevano di più ho ricominciato a suonarlo e adesso due anni che vado al liceo musicale e sto puntando andare al conservatorio insomma fare questo di lavoro quindi mi è stato d'aiuto l'ho scritto anche in una storia su instagram oggi e ho taggato etan abbiamo qui con noi una una sosia di vittoria quindi presumo che sei una fan accanita il tuo primo concerto e da dove vieni no non è il mio primo concerto ci sono stata anche l'anno scorso e a un music c'è un music awards di verona e si si vengo da verona e quando sei arrivata qua alle alle 10 di mattina qual è la tua canzone preferita è il dono della vita e coraline è il mio secondo concerto e vengo da civiltà nuova marche e che effetto fa essere l'ultima della fila un po particolare perché so che dovrà aspettare molto abbiamo fatto altri concerti ma da giovani e ci aspettiamo di divertirci e li seguite io si li seguo da quando hanno vinto sanremo sapi che non è l'inizio e la fine anche la rosa più bella le spine forse non finché risposta partire o restare a marcire no 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 marlena torna a casa e il freddo qua si fa sentire quindi marlena torna a casa io non voglio più aspettare e passiamo alla politica in questa domenica 26 febbraio si vota per le primarie del partito democratico e della sua elezione a segretario nazionale e regionale un appuntamento sottolineato anche dagli esponenti dem della provincia di pesaro urbino domenica 26 febbraio 2023 è una data storica per il nuovo pd che scendendo in campo con le primarie cerca di rilanciarsi a livello regionale e nazionale da una parte stefano bonaccini e dall'altra elish line per la rincorsa alla segreteria nazionale del partito chantal bonprezze e michela bellomaria invece a contendersi l'elezione alla segreteria regionale dei dem dunque domenica 26 febbraio saranno aperti 60 seggi sul territorio provinciale dove potranno recarsi tutti gli elettori del partito democratico muniti di carta d'identità e di tessere elettorali la votazione si effettua tracciando una sola x nel nome del candidato scelto il partito viene da due anni di commissariamento che ovviamente dopo le elezioni regionali del 2020 hanno avuto questa conseguenza per il partito e ovviamente il lavoro di discussione e di opposizione a questa nuova giunta regionale non è stato efficacissimo nonostante l'impegno dei consiglieri regionali per cui domenica gli elettori del partito democratico non solo gli iscritti sono invitati a Igazebo nel nostro comune saranno 12 postazioni per cui abbiamo la stessa organizzazione delle primarie degli anni precedenti orgogliosi che il partito democratico nonostante le difficoltà oggettive continua a stare sul campo della partecipazione e a chiedere a tutti i cittadini il loro contributo bisogna ristabilire l'armonia e l'empatia con i cittadini e con le cittadine e questo va fatto rendendo chiara la nostra identità quindi rendendo chiari quei punti, quei temi che per il partito democratico sono e devono essere imprescindibili, fondamentali ovviamente questo attraverso il contatto e il confronto con le persone, con le organizzazioni di qualsiasi tipologia per fare in modo che le problematiche e le stanze il nostro partito le possa rappresentare pienamente ovviamente il partito democratico non deve essere equidistante dai problemi quindi in ogni situazione va detto chiaramente che cosa si pensa e da che parte si sta è passata una settimana dal decreto governativo che ha imposto lo stop al superbonus e all'accessione del credito con disagi che stanno rischiando di paralizzare il settore edilizio anche del nostro territorio come possiamo appurare in questa intervista? Siamo ad una settimana dal provvedimento governativo che di fatto ha detto stop al superbonus edilizio del 110% e anche soprattutto all'accessione del credito, allo sconto in fattura, ripercussioni importanti sul settore dell'edilizia ne parliamo oggi con Giuseppe Balzano della Balzano Consulting Group che appunto ha il polso della situazione di tante imprese nella nostra provincia Le difficoltà a seguito di questo decreto sono tantissime perché il settore dell'edilizia adesso ha subito già da subito un rallentamento importante noi come studio l'abbiamo vissuto in prima persona e l'esperienza è stata che in questa settimana abbiamo avuto quasi 5 risdette di nuovi cantieri che dovevano partire perché sostanzialmente con gli estremi del nuovo decreto riuscire a fare un intervento di superbonus sia esso eco sia esso sisma è praticamente impossibile perché sostanzialmente i costi di mercato in questo momento sono molto alti non potendo avere la possibilità di poter cedere il credito agli incapienti che praticamente sono nella nostra esperienza l'80-90% delle persone che si accingono ad iniziare questi lavori diventa veramente difficoltoso anche perché il superbonus ha una detrazione fiscale in 4 anni quindi riuscire a gestire importi grossi come quelli degli interventi di superbonus in 4 anni fiscalmente diventa estremamente difficile quindi c'è al di fuori della cessione, cioè al di fuori della quota che può andare in detrazione fiscale c'è di conseguenza un grosso esborso economico da parte dei committenti e non tutti riescono a sostenere un intervento del genere quindi abbiamo subito, abbiamo già appurato un forte stop delle attività Questo diciamo è il presente stretto, la prospettiva quale può essere la più negativa imprese in difficoltà o addirittura messe in ginocchio non so se registrate anche questo sentore in questo momento e tante opportunità che vanno a decadere Le opportunità che vanno a decadere sono tantissime noi sostanzialmente come studio, ma un po' tutto l'indotto che noi seguiamo da due anni e mezzo grazie al superbonus aveva fatto dei numeri importanti sia come lavori sia come fatturato quindi anche ripercussioni nell'occupazione le grosse difficoltà sono che sostanzialmente questo stop velocissimo dei cantieri perché ripeto è un intervento che in pratica ci è capitato addosso dalla sera alla mattina non permettendo la programmazione, anzi lo stop della programmazione degli interventi in corso si ripercuote anche sulle imprese, sulle imprese edili e quindi di conseguenza avrà una ripercussione anche sull'occupazione il superbonus andava ad aiutare le persone che avevano un reddito basso però la conseguenza qual è? è che chi ha un reddito basso di conseguenza ha una bassissima capienza fiscale quindi è un qualcosa che va contro quello che era stato fatto dal governo due mesi fa questo che cosa succede? succede che va anche contro quella direttiva europea che è venuta fuori circa un paio di mesi fa o nell'ultimo mese la quale impone ai fabbricati entro il 2030 e il 2033 di raggiungere delle classi energetiche abbastanza alte e senza dei contributi da parte dello Stato diventa veramente difficile farlo in tutto questo contesto non è tutto nero ma esistono anche degli spiragli interessanti diciamo che noi come studio l'abbiamo interpretato in questo modo nel senso che sostanzialmente questo decreto si applica a tutte le pratiche edilizia ovvero alle CILAS, ovvero ai lavori che non sono ancora iniziati alla data di pubblicazione del decreto quindi sostanzialmente avendo lavorato noi molto in precedenza quindi abbiamo parecchi CILAS, la CILAS è la pratica edilizia che si presenta per avere il superbonus avendole presentate diverse precedentemente l'aspetto positivo che riteniamo possa avere questo stop ma è un pagliativo diciamo così e il fatto è che adesso avremo più tempo per poter far partire quei cantieri che erano tanti e che devono partire perché ne hanno diritto avendo appunto presentato la pratica edilizia prima della pubblicazione di questo decreto e parliamo anche di politiche del lavoro perché oggi il tour della Regione Marche e del suo assessore Stefano Guzzi in merito alle opportunità derivate dai fondi europei ha fatto tappa a Pesaro illustrando novità ad amministratori e ad associazioni di categoria Veniamo a far conoscere l'attività che stiamo svolgendo più in generale su ampia scala per quel che riguarda le politiche del lavoro tutto il programma di garanzia occupazionale del lavoro quindi le opportunità che le persone disoccupate hanno da potersi mettere in gioco sui territori a contatto con i nostri centri per l'impiego ma anche la novità di questa convenzione che noi facciamo con le agenzie di ricerca del lavoro private in modo da concorrere insieme non più come concorrente diciamo così tra pubblico e privato per inserire le persone nei luoghi di lavoro il sostegno alle imprese che noi diamo nel momento che loro assumono delle persone il contatto con le imprese con il mondo dell'imprenditoria che ci deve far capire bene che tipo di figure gli servono in modo che noi possiamo diciamo orientare i nostri corsi di formazione verso le reali esigenze del mondo dell'imprenditoria perché magari a volte può succedere che noi facciamo corsi di formazione per determinate figure che poi magari non sono esattamente quelle di cui le nostre imprese hanno bisogno ecco tutta questa serie di attività noi le veniamo stamattina qui ad illustrare a Pesaro lo faremo anche in altre realtà della nostra regione è un po' ripeto in concomitanza anche con quelle altre tipologie di incontri ma è tutto un arricchimento complessivo più ci si confronta e più è positivo ovviamente dopo l'incontro del 7 febbraio Pesaro 2024 continua il suo percorso con i 50 comuni della provincia questa mattina tutti presenti nel municipio pesarese con i loro referenti la riunione alla presenza del vice sindaco Daniele Vimini da Silvano Straccini direttore di Pesaro 2024 è stata l'occasione per iniziare la fase operativa del progetto di coinvolgimento dal titolo 50 per 50 capitali al quadrato all'incontro seguirà l'invio della scheda di manifestazione di interesse su cui ogni ente potrà inserire i dati del suo progetto che poi verrà valutato si tratta di un modo per raccogliere informazioni e anche di un primo piano economico utile ad avviare il lavoro il primo feedback delle schede è atteso entro il 24 marzo data del terzo appuntamento mensile del 2023 che si svolgerà a Fonte Avellana e la città di Pesaro conquista altri 465 mila euro di contributi statali per la riqualificazione energetica di tre edifici pubblici 143 mila euro saranno destinati alla scuola primaria di Arzilla in cui verrà installato un impianto fotovoltaico 220 mila euro saranno utilizzati per la riqualificazione energetica del centro sociale Sereni di Via Tombesi e 99 mila euro interesseranno il centro sociale Adriatico di Viale Trieste importanti risultati invece per i pizzaioli pesaresi alle fasi finali del campionato mondiale della pizza che si è tenuto a Rimini la scorsa settimana Antonio Longobardi titolare del ristorante Il Portico di Vismara si è classificato al quarto posto nella categoria pizza napoletana ricevendo anche i complimenti del maestro Gabriele Bonci Longobardi ha realizzato la pizza Lambra con base di crema di pomodorino aromatizzato all'aglio cotto al forno e frullato pendolino rosso pullet pork cialde fonduta di pecorino e zest di limone risultato importante anche per Edoardo Barone del ristorante La Macelleria classificatosi 14esimo e non quinto come erroneamente riportato nelle classifiche che avevamo comunicato ieri e parliamo anche di teatro con le tante rassegne targate AMAT nei prossimi giorni domenica 26 febbraio a Sant'Angelo in Lizola prosegue a andar per fiabe stagione dedicata al teatro per ragazzi nella sala branca appuntamento con a casa del lupo di teatro delle isole una storia d'amicizia tratta dall'omonimo libro di Sofia Gallo e Stefania Vincenzi raccontata per la prima volta in forma scenica stagione di prosa di teatri d'autore che fa invece tappa lunedì alle 21.15 al teatro Angel dal Fuoco di Pergola con partenza in salita lo spettacolo divertente e a tratti commovente vede per la prima volta Corrado Tedeschi salire sul palcoscenico con una partner speciale ovvero sua figlia Camilla e invece martedì 28 febbraio alle ore 21 grande appuntamento al teatro della Fortuna di Fano con l'indiscusso maestro del teatro europeo Antonio Latella che firma la regia Chi ha paura di Virginia Woolf un'opera di Edward Albi che viene affidata all'interpretazione di Sonia Bergamasco Vitnicio Marchioni Ludovico Fededegni e Paola Giannini sempre martedì 28 febbraio alle 21 altro grande appuntamento con la stagione teatrale del Sanzio di Urbino con Elio Germano e Teo Teardo che saranno voce e musica di Paradiso 33 per dire la bellezza avvicinarsi al mistero l'immenso indicibile ricercato da Dante nei versi del 33 canto del Paradiso Comune di Pesaro Caritas e Croce Rossa scendono in campo con Prince un nuovo progetto a contrasto di povertà estrema e marginalità Il Comune di Pesaro ha ottenuto un finanziamento di 197 mila euro da fondi europei e ministeriali per integrare i servizi di accoglienza e dare risposte più immediate ed efficaci al disagio creato da povertà e marginalità L'obiettivo di questo progetto che si chiama Prince è quello di attivare una regia unitaria di accoglienza dedicata ai senza fissa di Mora che collegherà uffici e attività già presenti sul territorio Caritas e Croce Rossa italiana saranno i due compagni di viaggio dell'amministrazione comunale e metteranno in campo tutti i loro servizi supporto psicologico accoglienza notturna distribuzione di generi alimentari supporto amministrativo e tutto ciò che risulterà fondamentale ai bisogni di chi non può aiutarsi da solo Il progetto Prince è un progetto che va a potenziare una serie di servizi che già sono sul nostro territorio e sono legati all'estrema povertà e diciamo portati avanti dall'amministrazione comunale in rete con la Croce Rossa e la Caritas sono 200.000 euro che vanno a potenziare per diciamo Croce Rossa il servizio di unità di strada che tre volte a settimana svolge un'attività sul territorio con licenza fissa dimora e potenzia per Caritas tutti quei servizi di prima accoglienza di ascolto il centro di ascolto che oggi sono dislocati nel centro storico questo progetto va a agire nella prima accoglienza quindi nella prima presa in carico dando i primi servizi che vanno da potenziare l'attività come la doccia che se vogliamo è molto importante piuttosto che la fornitura di alimenti piuttosto che controlli sanitari che svolge gratuitamente la Caritas e anche tutta la partita del diciamo che legale o di aiuto nelle pratiche amministrative che sono anche in questi contesti diventano importanti e si conclude qui questa nostra edizione della telegiornale Rossini News come di consueto prima di salutarci vi ricordiamo qualche appuntamento sul nostro canale 80 a cominciare dalla prima serata dedicata allo speciale realizzato dalla nostra Nicoletta Tagliabracci in occasione del carnevale di Montecchio di Vallefoglia tenutosi domenica scorsa appuntamento questa sera alle 21.20 e poi a seguire un documento d'epoca che tanti ricorderanno ma che ci fa piacere riproporvi ovvero facciamo un passo indietro al 1988 al primo scudetto della Scavolini di Pesaro e in particolare vi riproporremo il documentario relativo alla Maxi Tavolata che occupò in pratica tutto via le Trieste di Pesaro in occasione proprio del primo scudetto bianco-rosso come detto appuntamento alle 22 e poi l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini e la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che per l'occasione sarà condotta dal nostro Marco Cadeddu e ancora facciamo un passo avanti anche a sabato pomeriggio quando alle 16 vi trasmetteremo in diretta la celebrazione per i 100 anni di scautismo cattolico a Pesaro funzione religiosa che sarà celebrata in Santa Messa dalla Cattedrale di Pesaro come detto in diretta dalle ore 16 e dunque davvero tutto per questa sera si conclude qui Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi a Pesaro